L'Italia si gioca alla finale degli europei di calcio con l'Inghilterra e la domanda del momento è questa. Maxi Schermi sì o no? Meglio godersi la partita in piazza oppure nel salotto di casa al massimo in giardino con qualche amico fidato? Ecco che cosa ne pensa Luca Zaia. Io dico che se c'è distanziamento e c'è rispetto delle regole si può far tutto. La verità è che abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, abbiamo visto disgioche in piazza e penso che poi ci ritroviamo i contagi sempre in ospedale. Poi è inutile fare i filosofi della pandemia quando abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali si riempiono perché poi c'è una diffusione del contagio che passa attraverso il non rispetto delle regole. Se è vero che se ci chiudessimo tutti in casa nessuno si contagia, è altrettanto vero che se usassimo la mascherina, ci lavassimo le mani, le igienizzassimo e facessimo molte attività tipo quella di non andare in mezzo agli assembramenti, il risultato ci sarebbe. Il governatore lancia quindi un appello ai Veneti. L'appello è di vivere liberamente, serenamente, utilizzando la mascherina col principio dell'ombrello, te la metti quando piove, l'ombrello si apre quando piove, quando non c'è assembramento non te la metti.